Eccoci alle previsioni per il fine settimana. Attualmente insiste alta pressione sull'Italia e anche sulla zona alpina. Questo durerà fino alla giornata di sabato compresa con aria relativamente fresca e secca. Poi durante la giornata di domenica affluiranno correnti occidentali. Quindi per domani cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, una bella giornata però piuttosto fresca, specie di notte, con temperature minime che potranno scendere anche al di sotto dei 10 gradi in pianura e al di sotto dei 5 gradi nelle valli di montagna. Sulla costa avremo il mattino borino, poi brezza. Le temperature nel pomeriggio saranno intorno ai 23-24 gradi in pianura. Per domenica cielo inizialmente poco nuvoloso, tende un po' a velarsi per l'arrivo di correnti atlantiche. Dal pomeriggio variabilità, le temperature sui 23-24 gradi su pianura e costa. Dalla sera peggioramento, il cielo si coprirà e inizieranno probabilmente nella notte verso lunedì, le prime piogge a causa di questo fronte atlantico che nella giornata di lunedì poi porterà piogge da moderate ad abbondanti, forse anche intense e temporalesche tra la costa e la pianura. Sulla costa sofferà vento di scirocco da moderato a localmente sostenuto. Temperature massime, tutto sommato stabili, intorno ai 22 gradi. Martedì il tempo migliora, la perturbazione se ne va, torna al sole, cielo in genere poco nuvoloso. Dall'osservatorio meteo regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.